buona serata a tutti allora intanto mi sono collegato perché mi faceva piacere salutarvi e salutare tutti quelli che mi hanno in questi giorni iscritto per sapere in che condizioni di salute fossi avendo appreso del fatto che sono positivo al covid ora anch'io mi ero chiesto in passato che cosa volesse dire esattamente essere positivi al covid asintomatici ecco adesso avete davanti uno che è positivo al covid e asintomatico cioè non hai assolutamente nulla non so e stiamo cercando di capire chiedere anche di far luce su questo tipo di aspetto quanto un asintomatico sia contagioso per fortuna infatti non ho contagiato nessuno della mia famiglia tutti risultano negativi nessuno dei miei collaboratori perché tutti risultano negativi ciao francesco che mi scrive e insomma il mio stato di salute è ottimale qual è il problema di un positivo asintomatico è che ti devi chiudere in casa se il resto della famiglia è negativo devi proteggerli e per proteggerli devi chiuderti in camera e quindi insomma sono alcuni giorni che vivo un po recluso nella mia stanza e che ci passerò ancora altri giorni quindi faremo così insomma faremo questa esperienza di di stare in una stanza per più di dieci giorni senza poter uscire però c'è gente che sta male quindi ovviamente pensando a loro questi sono sacrifici minimi nel frattempo uno prova ovviamente a lavorare utilizzando gli strumenti della tecnologia riuscendo a seguire quelli che sono i dossier aperti in questi giorni avete visto per esempio che siamo riusciti a far emergere finalmente questa cosa vergognosa del furto di un pezzo di monte bianco che la francia sta facendo i nostri danni non gli bastava averci fregato le migliori aziende non gli bastava di averci scaricato gli immigrati a timiglia di notte vi ricordai gendarmi francesi che ci riscaricavano superando il confine in maniera vergognosa non gli è bastato umiliarci in libia dando e sostenendo il aftar contro quello che erano gli interessi italiani che in quel caso coincidevano con quelle che erano le posizioni della comunità internazionale abbiamo avuto da parte dei francesi un furto del pezzo di un pezzo di mare pescosissimo vi ricordate l'accordo di caen beh adesso arrivano a tentare di fregarci anzi in realtà a oggi ce l'hanno proprio fregato un pezzo di monte bianco un pezzo di monte bianco che i sindaci di sciamonia di un altro paesotto lì sotto hanno deciso di vincolare utilizzare al loro piacimento perché gli italiani avevano costruito un impianto che a loro dire forse gli faceva concorrenza gli faceva perdere delle economie allora in un mondo normale in un mondo normale quest'atto è gravissimo noi abbiamo presentato il 20 di agosto dello scorso anno un'interrogazione puntuale che racconta che cosa è accaduto è accaduto che pur esistendo dei degli accordi internazionali uno del 1860 un altro nel 1947 tra italia e francia che descrivono quali sono i confini noi abbiamo perso la guerra nel 1947 insomma se ce lo dovevano levare forse all'epoca avevano qualche possibilità di farlo non la dovrebbero avere adesso e invece lo stato francese che cosa ha risposto al nostro governo attenzione io scrivo a conte e a di maio ministro degli esteri il 20 agosto 2019 questi mi rispondono il 12 di ottobre del 2020 non hanno alcuna cura in alcuna attenzione peraltro non mi rispondono manco conte e di maio ma lasciano rispondere un sottosegretario scalfarotto sembra una barzelletta quello che risponde nell'interrogazione perché ammette che la francia ci ha fregato un pezzo della nostra montagna più alta e che noi l'unica cosa che abbiamo fatto abbiamo detto guardate che in realtà è la nostra per evitare che si vada a configurare una quiescenza che in termini diplomatici significa ti abbiamo fregato tu sei stato zitto e quindi ti becchi la revisione dei confini non taceremo di fronte a questa situazione abbiamo sentito grande calore intorno a questa battaglia perché c'è la dignità nazionale che tocca i cuori degli italiani e quando i nostri sacri confini poi anche quello che c'è dietro gli interessi vengono attaccati da una nazione arrogante come la francia specie in queste cose ci deve essere una reazione reazione comune i nostri parlamentari europei hanno scritto alla von der leyen hanno chiesto un intervento dell'europa vediamo se l'europa ogni tanto cerca di essere equilibrata perché i francesi hanno ammesso che c'è un problema hanno detto però a noi degli accordi ce ne frediamo adesso vediamo una commissione bilaterale hanno dimenticato di dire che la commissione bilaterale già si è riunita avevano preso accordi di non svolgere nulla in termini unilaterali né italia né francia e invece nel 2015 questi accordi sono stati disattesi nel 2019 perché dicevo i sindaci di Chamonix hanno violato quegli impegni reazioni poche e niente in altre epoche non ci auguriamo ovviamente questo avrebbero mandato i soldati al confine per riprendersi e rimettere i paletti oggi non chiediamo questo ma chiediamo dignità da parte della nostra nazione quindi fratelli d'italia farà di tutto per ristabilire quello che è un nostro diritto dal punto di vista internazionale e in senso patriottico ricominciare ad avere a cuore gli nostri interessi hai ragione angelo questo governo non è certamente all'altezza e lo dicevo prima lo dico ad ivan che mi scrive questo governo è una barzelletta e in effetti rischia di essere lo è anche sulla vicenda dell'emergenza covid continua a rifiutare il dialogo con le opposizioni avete seguito conte aperto la sua conferenza stampa perché non viene in parlamento prima a dire che cosa vuole fare per assumere da parte nostra indicazioni non nostra dell'opposizione nostra dei parlamentari rappresentanti del popolo lui non è letto da nessuno va e ti dice che vuole fare ha iniziato dicendo ho avvisato l'opposizione avvisato tre minuti prima non dico tre minuti nel senso modo di dire tre minuti nel senso di tutti i leader dell'opposizione sono stati avvisati tra le 9 e 25 e le 9 e 29 di quello che lui voleva fare avvisati sto per dirvi che cosa accadrà con chi se l'è presa conte minacciando le palestre le palestre sono state più o meno tutte messe in regola fin da maggio le prime a chiudere le prime a cui hanno chiesto di mettersi in regola hanno chiuso dei pezzi delle strutture hanno seguito i protocolli che gli ha dato la federazione hanno seguito i protocolli che gli hanno dato a livello regionale hanno seguito i protocolli a livello nazionale adesso conte gli ha fatto un ultimatum da sotto palazzo ligio nel microfono avete una settimana per mettervi in regola ma mica gli ha detto che cosa dovevano fare loro oggi ancora non sanno che cosa devono adeguare in questi sette giorni spadafora questo fantastico ministro dello sport ha detto che glielo dirà venerdì così avranno sabato e domenica eventualmente per adeguarsi se non gliele chiudono questo è il meccanismo mentale perché se la prendono con le palestre perché se la prendono sempre con i più deboli dicono ai ristoratori che massimo sei a tavola se sei una famiglia che ha cinque figli non ti puoi sedere a tavola tutti insieme mamma papà e cinque figli se sei in sei amici tutti i residenti in case diverse magari con le loro mogli magari a loro volta abitanti con altre tre quattro persone lo puoi fare no degli assurdi che non si riescono a spiegare in nessuna maniera secondo alcuna modalità questo governo se la prende deboli perché non ha fatto niente sulle cose serie da luglio che dicono che sarebbe arrivata questa emergenza ci hanno fatto fare la campagna elettorale ad agosto allora se sapevano davvero perché noi di fronte non avevamo dati tecnici loro hanno evitato di desecretare i verbali del cts non conosciamo davvero quello che sta per accadere ma se loro lo sapevano perché si sono occupati dei monopattini invece di occuparsi dei mezzi di trasporto pubblici che ogni giorno vengono frequentati da centinaia da migliaia di persone che sono assiepate sono quelli luoghi del contagio domani guardatevi il question time che faranno i nostri deputati alle ore 15 alla camera su questo tema e ne vedrete delle belle poi abbiamo tanti altri temi in quest'ora che stiamo trattando ma ne parleremo nelle prossime ore adesso vi ringrazio e vi saluto augurandovi una buona serata ciao Grazie.